Il giorno del funerale del loro re è arrivato. Un feretro scortato da decine di campere, un dispiegamento di forze, così al cimitero di Bertesina non si era mai visto. Almeno un centinaio di nomadi, ma c'è chi giura che avrebbero dovuto essere 4.000 in arrivo da Roma. Il re degli Alilovic, capofamiglia, è stato salutato stamattina con brindisi, birra servita davanti all'entrata del cimitero, lattine appoggiate alle inferiate sopra le fioriere, pianti sconsolati e musica dagli altoparlanti posizionati sopra la bara. Momenti di tensione tra alcuni nomadi, forse dovuti ai fumi dell'alcol. Qualcuno era visibilmente su di giri. Tensioni che seguono a quelle già viste in piazzale Fratelli Bandiera, quando alcuni passanti denunciarono una lite in corso, pare tra le diverse fazioni della grande famiglia, proprio in merito al funerale del loro capo. Una morte su cui era scesa l'ombra dell'omicidio con Ibrahima Alilovic si dice scappato a Roma per sfuggire ad una famiglia rumena e a più di qualche guaio con la giustizia. L'uomo era irreperibile e la questura non aveva mai potuto recapitagli il provvedimento di espulsione emesso dal precedente questore. Questa mattina davanti al cimitero c'erano carabinieri, questura e polizia al locale per garantire che il tutto si svolgesse secondo le regole. A Bertesina è sepolta dal 2005 anche la moglie, quella che per tutti è stata la regina.